Sarà processato il 10 ottobre prossimo dalla Corte d'Assise di Chieti, Mirko Giancaterino, 37 anni, pregiudicato e tossico dipendente, accusato dell'omicidio di Gabriele Giammarino, ex maresciallo dell'aeronautica, trovato morto il 13 settembre scorso nella sua abitazione di via Bernardo Castiglione a Penne. Il 37enne, accusato dal PM Mirvana di Serio di omicidio volontario con l'aggravante della crudeltà e di incendio doloso, è stato rinviato a giudizio dal gruppo di Pescara Gianluca Sarandrea. Secondo l'accusa, l'imputato avrebbe colpito la vittima con violenti pugni e 26 coltellate, riducendolo in fin di vita, e poi avrebbe appiccato il fuoco al materasso posizionato sopra il corpo di Giammarino. Contro Giancaterino, che avrebbe agito per derubare la vittima, ci sono i video registrati dalla telecamera di una tabaccheria vicino a casa dell'ex maresciallo, le tracce di sangue rinvenute sulle scarpe da tennis e sui pantaloni della tuta, una testimone che l'avrebbe visto mentre usciva dall'abitazione dell'ottantenne. Secondo la difesa, le tracce del DNA, che nel caso dei pantaloni sono peraltro compatibili solo al 50%, non rappresentano neanche dei gravi indizi di colpevolezza e quanto ha dichiarato prima della pronuncia del GUP il legale di Giancaterino, l'avvocato Melania Navelli. Mancano sia la ricostruzione della dinamica del delitto che il movente, ha proseguito il legale. Anche la testimonianza di una vicina di casa della vittima, che ha riconosciuto solo a posteriori Giancaterino e ha detto di averlo visto solo di profilo, risulta inattendibile in quanto le immagini carpite dalla telecamera di sorveglianza non sono chiare e la persona ripresa in video aveva il volto coperto da un cappello. Le parti offese, rappresentate dall'avvocato Federico Squartecchia, sono la sorella della vittima, Pasqualina Giammarino, e i due nipoti dell'ex maresciallo.